Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi in questo mini mini video volevo annunciarvi che il canale sa per riprendere piede come state ascoltando finalmente mi è arrivato il microfono nuovo devo lavorare un po' ancora sui settaggi però ragazzi mi raccomando rimanete aggiornati sul canale per chi ancora non l'abbia fatto rimanete aggiornati sul canale Telegram che trovate in descrizione e soprattutto sul profilo Instagram dove ogni tanto pubblico qualche foto e qualche storia detto questo ragazzi mi raccomando rimanete aggiornati è un mini video che vi caricherò subito appena posso e detto questo ragazzi mi raccomando rimanete aggiornati bella